Buongiorno e bentornati. Buongiorno e bentornati. In altre località le scuole sono rimaste chiuse, rimarranno chiuse. Faremo il punto della situazione attraverso i quotidiani. Parleremo chiaramente anche della visita del Presidente del Consiglio Gentiloni ieri a Campi. Sono solo alcuni degli spunti che possiamo trarre dalla lettura dei quotidiani che andiamo a iniziare con le prime pagine del centro del Messaggero e della città. Partiamo dal centro, le quattro edizioni, qui siamo su quella di Pescara. Il fiume è a rischio esondazione, pioggia record, scuole chiuse in molti centri a Pescara, anche i cimiteri. E poi sotto la testata Gentiloni da Campi verso il futuro, il premier in Abruzzo per inaugurare il primo cantiere della banda ultralarga. E poi ancora la scienza fa rinascere i premi Nobel, Rubbia e Berisch scommettono sull'Aquila. Calcio nella bufera Malagò, il Presidente del Coni dice io al posto di Tavecchio mi dimetterei. E poi al centro la fotonotizia, dal DNA arriva la conferma e il corpo della pittrice Renata Rapposelli. E poi altri richiami, crollo del solaio, calcinacci sul letto, io salva per miracolo. Scontro nel PD, Nuova Pescara sarà capoluogo, Abruzzo diviso. E da oggi al 15 aprile, gomme termiche o catene a bordo, scatta l'obbligo. Il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, autoblum a Chieti, solo conducenti virtuosi. La prima pagina dell'Aquila, ecco qui l'apertura Pescara, capoluogo caos nel PD. L'Aquila, i big locali contro i colleghi della costa, il Sindaco Biondi insorge. La fotonotizia, i Nobel Rubbia e Beris scommettono sull'Aquila la scienza per la rinascita. E poi ad Avezzano sarà murato il rifugio dei disperati. A Sulmona scuole, c'è l'ok per le strutture provvisorie. E poi, come abbiamo già letto, da oggi al 15 di aprile, gomme termiche o catene a bordo, scatta l'obbligo. E ora andiamo a vedere la prima pagina di Teramo. Pioggia da record, scuole chiuse, o meglio, chiuse le scuole. Niente lezioni a Teramo, Giulianova e in molti altri centri. Fermo anche l'Ateneo. E poi, in basso, anche qui la fotonotizia della conferma del ritrovamento del corpo di Renata Rapposelli attraverso l'esame del DNA. Altri richiami, Giulianova, nuovi esami sulla donna morta dopo l'intervento. Teramo, crisi in comune, Brucchi, Revoca il bilancio, Gatti e Grottesco. Vediamo la prima pagina, ora, dell'edizione di Chieti. L'apertura è la seguente, con un fatto di cronaca che si è verificato proprio nelle ultime ore. Marito e moglie morti nello scontro. Sangue sulla trignina. Le vittime tornavano a Vasto, feriti i due figli. E poi ancora, maltempo a Chieti. Scuole chiuse, niente lezioni all'università. Poi Chieti-Lanciano-Vasto, gole d'emozioni nel campionato degli amatori. Andiamo ora a vedere la prima pagina del messaggero Abruzzo, che apre così schianto. Morti marito e moglie. Trignina di sangue, punto disintegrata, contro un tir che viaggiava nella stessa direzione. L'incidente per la pioggia in località Rocca Vivara. Le vittime sono di Vasto, feriti i due figli. E poi andiamo a vedere sotto la testata questi tre richiami. A Pescara, poliziotti in chiesa per proteggere le nonnine dai truffatori. Teramo, banda di barra, segno un colpo ogni tre giorni. E a L'Aquila, due Nobel tengono a battesimo la scuola di alta formazione. Rubbi e Beris hanno partecipato all'inaugurazione dell'istituto. L'istituto del Gran Sasso Science Institute sarà ospitato nel rinato palazzo dell'ex Gil. E poi di spalla infermieri e medici ripartono i concorsi. Il dossier assunzioni sarà discusso questa mattina in Regione. La fotonotizia e il DNA conferma il corpo è di Renata. Domande sulla madre, Simone non risponde al PM. E poi in taglio medio Gentiloni in aiuto dell'Abruzzo con il Superweb. Il premier ieri a Campi per inaugurare il primo cantiere della banda ultralarga. In basso lo studio, le donne vivono fino a 84 anni. Andiamo avanti e siamo alla prima pagina della città. Andiamo a vedere con il titolo d'apertura. Il corpo nella scarpata della pittrice. L'esame del DNA conferma che si tratta di Renata Rapposelli. Il figlio fa scena muta davanti al PM. E poi salviamo il passato investendo sul futuro. Il premier Gentiloni a Campi per la banda larga. Madre e figlia ancora in coma ma fuori pericolo. Investite alla fermata del bus. Poi ecco qui la fotonotizia. Scuole chiuse. Allerta meteo. Pericolo per le precipitazioni fino a domani. Poi in basso Acqua Sicura. Successo da capitalizzare i cinque proposte dopo la grande manifestazione di sabato. Di spalla siamo alla politica. Con la crisi nel comune Terramano. Sandro Mariani. Il PD non si fa dettare l'agenda da Paolo Gatti. E poi forti tensioni a Palazzo sull'epilogo del sindaco. Per lo sport la serie C Terramo. Il problema è in attacco. Appena sette gol in quattro. E ora lasciamo la rassegna delle prime pagine locali. Andiamo a vedere le prime pagine delle testate nazionali. Partendo dal Corriere della Sera. Questo è il titolo d'apertura. L'Europa sui conti fate di più. Nuova lettera. Giudizio finale rinviato a maggio. Ma il PIL è ai massimi da sei anni. Il vice della commissione Katainen. I vostri politici non dicono la verità. Paduan non rispondo. E poi sotto la testata. Venduti come schiavi i migranti. L'ONU accusa UE e Italia. Lo shock per gli azzurri fuori dai mondiali. L'Ite è accuse assedio al vertice del calcio. E poi ancora andiamo alla fotonotizia. L'islamica indifferente inventata da Mosca. Fake news. Il commento virale sull'attentato di Westminster. Siamo ora alla Repubblica che apre così Grasso e Boldrini. Scontro a sinistra sui due presidenti. Orlando passati all'opposizione e alla difesa. Noi siamo imparziali. E poi una foto con il CT della Nazionale Ventura. Il presidente federale Tavecchio. Il CT tratta la buon'uscita. Per il futuro si punta su Ancelotti. Ventura all'addio. Tavecchio resiste. Ma il calcio azzurro va rifondato. E poi il video. Libia. Il mercato dei nuovi schiavi migranti. Venduti per 400 dollari. In basso. L'SMS parte dal cuore. Ma si perde nel traffico. Perché calano le donazioni. E poi la scommessa di Jeff Holden. Professione visionario. Vi darò il taxi volante. E ora andiamo con la stampa. Mondiali sconfitta senza colpevoli. Tutti chiedono le dimissioni. Ventura prende tempo. E Tavecchio non lascia. Dopo l'umiliazione della Nazionale di Calcio. Il capo del CONI dice fossi il presidente del Federcalcio. Me ne andrei. Pellegrini. Uno smacco per lo sport. Poi la fotonotizia. In Libia. Venduti come schiavi. Denuncia della CNN sui migranti. L'ONU contro l'Unione Europea. La Farnesina si difende. Poi di spalla. Di Maio a Washington. Con noi niente caos. Ma ligela su Kabul. E gli Stati Uniti ora guardano a Berlusconi. Colloquio con Tajani. In Europa timori per il Movimento 5 Stelle. Sole 24 ore. Con l'apertura sul PIL. Balzo di Germania e Italia. L'economia tedesca cresce del 2,8%. Su base annua. Quella italiana. Dell'1,8%. Nel terzo trimestre si rafforza la ripresa in Europa. Soprattutto grazie alle esportazioni e agli investimenti. E poi in taglio medio TLC Pompei lancia Open Fiber. Elisabetta Ripa nel board per CDP sale al vertice della società per la rete controllata da Enel e Cassa. E ora siamo al fatto quotidiano. Disastro azzurro. Anche qui le conseguenze del mancato accesso ai mondiali del nazionale. Ventura e Tavecchio non si schiodano. Baggio, io ci sono. Processo al sistema calcio dopo il disastro azzurro. Poi siamo alla politica. Renzi, Berlusconi e Verdini. L'inciucio per Consob e Corte dei Conti. Intese larghissime. La spartizione delle nomine. Prima delle urne di primavera. Ora andiamo con il manifesto. Si parla di oltraggio. L'oltraggio. Dura accusa dell'alto commissario dell'ONU per i diritti umani all'Unione Europea e soprattutto all'Italia. Il patto con la Libia per la gestione dei flussi migratori è disumano. Inchiesta shock della CNN sui nuovi schiavi. E poi in basso pensioni. CGL pronta alla piazza. In arrivo una lettera dall'Unione Europea per la manovra. Siamo al messaggero. Anche in questo caso l'apertura dedicata al fallimento mondiale del nazionale. L'Italia perde ma loro restano dopo il K.O. mondiale. Malagop un getta vecchio. Fossi lui mi diventerei per ventura pronto l'esonero. Pressing di Lotti. Calcio italiano da rifondare. L'esclusione dalla Russia costa al paese un miliardo. E poi ancora, un po' più in basso rispetto al titolo d'apertura, l'intervista a Berlusconi in modello Sicilia per vincere. Spero Strasburgo decida prima del voto. La fotonotizia, la fake news di Mosca fa infuriare May. Londra, immagine falsa, vogliono destabilizzare l'Occidente. Orrore a Roma, stuprata e uccisa vicino a Via Veneto. Il corpo di una brasiliana di 49 anni ritrovato in un sottopasso. Gli inquirenti, attacco brutale. E poi il ballottaggio blindato di Ostia, gli agenti infiltrati e foto ai sospetti. Piano del Viminale per le elezioni. E siamo al tempo che apre così l'Italia. Agli italiani della debacle azzurra va incolpato. Il nemico del nostro calcio, i troppi stagneri in A. Mogi, io vincevo. Pirozzi, dateli a me. C'è questa foto risalente al 2006 dopo la vittoria del Mondiale in Germania. Di Spalla, diario Capitale, misure grottesche al ballottaggio. Ostia scambiata per Corleone, soldati ai seggi. Siamo ora a Libero. Ci sfottano di più per il calcio che per la politica. la nazionale fatta fuori dal Mondiale senza neppure giocarlo. Qui tutti piangono ma nessuno si dimette. All'estero ridono, però siamo campioni del mondo di assenteismo. E poi vediamo sempre all'altezza del titolo d'apertura la bambola col velo, anche Barbie diventa musulmana. Andiamo ora alla verità. Con l'apertura, pronta la legge che ci blocca i conti correnti. Parere positivo della BCE alle nuove norme bancarie predisposte dall'Unione Europea, inclusa quella che prevede di congelare i depositi e limitare i prelievi negli istituti ritenuti a rischio. Un sequestro di denaro che farebbe saltare anche la tutela sotto i 100.000 euro. E poi esclusivo, per la verità, la popolare di Vicenza era la banca dei servizi segreti. In basso leggiamo Minniti fa causa ai comuni anti-invasione, è proibito persino chiedere alle coop i dati sull'accoglienza e Milano vuole offrire il bus gratis ai clandestini. Andiamo nella parte finale, la penultima prima pagina che vediamo. Patto inumano. L'ONU sferza l'Unione Europea in Libia e gli orrori sui migranti, filmato un'asta di giovani venduti come schiavi. L'Alto Commissariato per i diritti umani condanna l'accordo europeo con la Guardia Costiera di Tripoli. Documentate le atrocità. Poi in basso vediamo la doppia fotonotizia. Venezuela e Zimbabwe, due regimi ora in bilico. Maduro affronta il rischio default. Mugabe sfidato dai suoi militari. Poi il caso, il PIL italiano, ora va ma Bruxelles ci gela. La crescita 1,8%. I conti non vanno. In arrivo una lettera. Chiudiamo con il mattino. L'apertura. Vergogna azzurri. Tutti a casa. Assedio alla Federcalcio. Via Tavecchio. Scontro Salvini-Renzi sui troppi stranieri. In campionato. Il flop della Nazionale diventa un caso politico. Lotti. Calcio da rifondare. Per Ventura, il giorno dell'esonero, favorito Ancelotti. Lasciamo la rassegna delle prime pagine nazionali. Torniamo ai quotidiani locali e ripartiamo dal centro. Siamo subito a pagina 2. Il premier in Abruzzo, Gentiloni da Campri. Parliamo all'Italia. Il presidente del Consiglio inaugura il primo cantiere della fibra ottica. La connessione con la banda ultralarga deve essere un servizio per tutti. E poi vediamo anche all'interno questo trafiletto Luci del Correcom. Il presidente del Correcom ringrazia il presidente e gli dona un libro. Poi qui vediamo altri momenti di ieri, altri scatti di questa giornata nella quale appunto il presidente del Consiglio ha visitato Campri per l'inaugurazione della rete veloce. Allora c'eravamo anche noi. Vediamo il servizio del Tg6. Il governo italiano, rappresentato dal premier Paolo Gentiloni, ha scelto Campri in provincia di Teramo per inaugurare il primo cantiere in Italia nell'ambito dei piccoli comuni che installerà la fibra ottica per un internet super veloce. Campri dunque, simbolo di rinascita di un'Italia che guarda al futuro e che, come ha dichiarato il presidente del Consiglio, è tornata a crescere con un più 1,8%. L'investimento complessivo dell'open fiber sull'intero territorio italiano si aggira intorno ai 7 miliardi di euro con la creazione di oltre 10 mila posti di lavoro. Ma sentiamo il premier Gentiloni. Io credo che non sfugga a nessuno il valore simbolico dell'inaugurazione che stiamo facendo questa mattina, che abbiamo fatto questa mattina. Perché da una parte parliamo al luogo in cui ci troviamo, parliamo a Campri, parliamo alla zona del cratere colpita dal terremoto in Abruzzo e in generale alle aree colpite dal terremoto e dall'altra parte parliamo al Paese perché cogliamo questa occasione per raccontare un progetto che sta incamminandosi e che ha il valore strategico di cui prima si è parlato. Campri è uno dei comuni colpiti dal terremoto, è uno dei comuni del cratere ed è, credo, di straordinaria importanza dire grazie a chi ha lavorato, a Open Fiber, ai suoi ingegneri, ai suoi tecnici, alle maestranze, agli operai dei cantieri senza i quali non si fanno queste operazioni e queste innovazioni, dirgli grazie perché lo hanno fatto esattamente qui, dimostrando che noi abbiamo bisogno nelle aree colpite dal terremoto certamente di far fronte all'emergenza, abbiamo bisogno certamente di ripristinare l'antico, di far tornare alla loro bellezza i borghi del nostro centro Italia colpiti dal terremoto con il loro patrimonio storico, con le loro ricchezze straordinarie, con la loro unicità, perché ogni comune ha le sue particolarità, con le loro tradizioni, so che a Campri, oltre a grandi bellezze architettoniche, c'è anche una tradizione gastronomica che si è fatta valere nel corso dei secoli addirittura e che va valorizzata e rilanciata. Sempre a pagina 2 del centro, se la corruzione spuzza, dialogo a tre sull'Italia, Giovanni Legnini, Raffaele Cantone, Salvatore Rossi, domani a Pescara, il direttore generale di Banca Italia Rossi ricorda il valore del rimboccarsi le maniche. Pagina 3, la scienza fa rinascere, i Nobel Rubia Berish scommettono sull'Aquila, due geni della fisica, l'inaugurazione dell'anno del Gran Sasso Science Institute, nasce anche il campus della ricerca, il rettore Coccia. Siamo a 1.400 domande. In basso le parole del sottosegretario alla ricostruzione dei Micheli. Voglio celebrare chi è capace di rialzarsi. Andiamo avanti. Il maltempo è arrivato, scuole chiuse per pioggia record, la protezione civile, codice rosso, a casa gli studenti di 18 centri, tra cui Pescara, Chieti e Teramo. Poi il centro ci ricorda che da oggi l'obbligo di gomme, antineve o catene a bordo. Chi non le monta rischia sanzioni fino a 168 euro e tre punti in meno sulla patente. Dura fino al 15 aprile, occhio alle sigle sugli pneumatici invernali e indica il centro quelle giuste. dunque da oggi gomme antineve o catene a bordo. C'è l'obbligo. Siamo alle pagine di Pescara, sempre con il maltempo in evidenza. Pioggia record, fiume a rischio e sondazione, chiusi scuole, parchi e cimiteri anche a Montesimano in mezza provincia, golene e sottopassi vietati alla circolazione. Le parole del metereologo in 48 ore cadrà il triplo dell'acqua di novembre. Ancora l'assessore comunale a Pescara Teodoro, sei pattuglie dei vigili in servizio H24 per monitorare ogni zona. E poi in basso le parole del presidente della provincia di Pescara Di Marco, condannata una provincia senza fondi. Il presidente Di Marco dopo la sentenza che obbliga l'ente a risarcire i danni provocati da una buca. Avanti ancora, siamo alla cronaca. Calcinacci sul letto salva per miracolo. Via Galilei, il racconto drammatico della donna che lunedì sera ha dovuto lasciare la casa dopo il cedimento del soffitto. Poi parla l'ingegnere proprio in riferimento a quanto accaduto. l'ingegnere Maurizio Vicaretti, già presidente dell'ordine degli ingegneri pescaresi, i palazzi sono meno sicuri se hanno più di 50 anni. Andiamo avanti, siamo a pagina 14, mercatino etnico nel tunnel, il PD ritiri la delibera, i grillini chiedono di dirottare i 250 mila euro su tutto il commercio cittadino, i fratelli d'Italia sollecita un referendum per individuare l'area più idonea. In taglio medio lavori per ricostruire l'asfalto in via Sauro, cantiere aperto da domani, gli interventi di riqualificazione interesseranno anche via Caboto. Andiamo avanti a pagina 15 con questa storia che fa venire fuori il centro campione di tennis denuncia cacciato per la mia carrozzina. L'episodio si è verificato in un negozio di giocattoli mentre faceva acquisti con la famiglia. Andrea Silvestrone racconta il proprietario mi ha raggiunto e mi ha spinto verso l'uscita. E poi sempre la cronaca droga in casa arrestato in carcere di Rocco 33 anni sorpreso con eroina e coca dopo il blitz dei carabinieri. siamo in basso ecco qui i consigli antitruffe alla fine della messa iniziativa della polizia per mettere in guardia i pensionati prima lezione al fianco di Don Max Don Massimiliano De Luca eccolo qui parlo dei Santi Angeli Custodi andiamo avanti torna a essere particolarmente attivo il dibattito sulla nuova Pescara già da diversi giorni ecco qui città e campanini la nuova Pescara divide l'Abruzzo capoluogo di regione il PD dell'Aquila Cuzzi si dimetta dunque impazza la polemica tra l'Aquila e Pescara sotto questo profilo ecco qui le parole di Alessandrini del sindaco di Pescara Alessandrini la città non ha bisogno di targhe istituzionali il sindaco spegne i fuochi che divampano nel suo partito e rigetta il tentativo di far saltare il progetto di fusione poi ancora le parole di Simone D'Alfonso anche lì del PD Cuzzi è poco informato oppure è un sabotatore in basso la delibera periferia 18 milioni per il recupero l'assessore Cuzzi serviranno per mobilità edilizia popolare e lavoro dunque qui l'assessore Cuzzi interessato non per il dibattito sulla nuova Pescara ma per le sue deleghe in seno alla giunta di Pescara e poi comune sempre di Pescara documenti in metà tempo di Carlo servizi più efficienti si potranno pagare i tributi da casa ok al piano di informatizzazione e ancora siamo nell'area metropolitana Pitbull liberati e caccia al ladro ripreso nel video a San Buceto si indaga sul tentativo di furto in casa Masciarelli proprietari dei cani dai cancelli e lasciati aperti sono usciti tre animali che hanno ucciso il Labrador avanti ancora siamo alla pagina di Montesilvano lo scontro sui fanghi in mare la ditta Nicolai possibile riconvertire i sedimenti società angolana dispone di una piattaforma per il lavaggio delle sabbie dragate Maragno diffida la regione a smaltire i materiali davanti alla costa pescarese poi ancora a Città Sant'Angelo stipendi più bassi alla Linda la CGL scrive al sindaco l'opposizione chiede un consiglio comunale straordinario ma Florindi assicura ci attiveremo per risolvere al più presto la questione nell'interesse dei lavoratori in basso in Abruzzo i mondiali di beach handball Pescara e Montesilvano preferite all'America per i campionati che si giocheranno nel luglio del 2020 siamo ora nella Val Pescara la tragedia dell'orta Silvia e Giuseppe una morte evitabile il perito delle famiglie dei coniugi è negati a maggio nel fiume zona senza segnaletica pericolosa per visitatori e lavoratori poi a Penne torna il maltempo ora fanno paura le frane vento e pioggia nel territorio ovestino le prese con gravi fenomeni di dissesto mai risolti siamo a Chieti o meglio nelle pagine di Chieti in provincia purtroppo si è verificato questo gravissimo incidente mortale sangue sulla Trignina marito e moglie muoiono nello scontro la tragedia a Roccavivara la punto finisce contro un tir le vittime sono di vasto feriti i due figli di 19 e 21 anni in basso licenziamento contestato sia l'accordo con Del Vecchio transazione da 170 mila euro e sempre nel Chietino ora siamo nel Chietino crack ex Lanciano Calcio assolto Angelucci prescritto per la Cassazione il reato di bancarotta semplice per di Stanislaw e Patrizzi chiesta la rideterminazione della pena e poi ad Atessa Onewell lavoratori con il fiato sospeso ad Atessa confronto tra il ministro Calenda e i vertici della multinazionale si è tenuto in tarda serata andiamo avanti con la pagina aquilana giustizia lumaca all'Aquila processo lungo 25 anni paga lo Stato anziana ottiene 10 mila euro di indennizzo per una causa sulla divisione di alcuni terreni il secondo caso in pochi giorni e poi a Sulmona MUSP per le scuole ok dai vigili del fuoco in arrivo il trasloco delle aule dei 60 moduli riguarderà almeno 200 alunni e infine la pagina terramana del centro conferma dal DNA il corpo è di Renata oggi a Macerata sarà eseguita l'autopsia e domani i RIS cercheranno altri indizi nella casa della pittrice ad Ancona e ieri intanto l'interrogatorio il figlio non risponde al PM il padre è ancora in ospedale i legali dei Santoleri hanno nominato un consulente Giuseppe Sciarra che non prenderà parte all'esame autoptico oggi si avranno anche risultati definitivi degli esami sui tessuti ma la conferma dell'identità è certa poi ancora lavori sulle acque ecologisti convocati l'organismo che programma le opere dentro il Gran Sasso contatta l'osservatorio indipendente il bilancio del corteo le 3.000 persone non erano scontate ora invitiamo i parlamentari abruzzesi ad agire in modo deciso sui ministeri competenti ci fermiamo diamo lo spazio alle previsioni del tempo più che mai da ascoltare proprio in queste ore di maltempo e dopo l'allerta che è stata lanciata ieri dalla protezione civile regionale poi la pubblicità e poi ci ritroveremo con la seconda parte di mattino 6 rieccoci con la seconda parte di mattino 6 riprendiamo con il messaggero Abruzzo ecco qui scenari di sviluppo Gentiloni e il web la banda larga rilancerà l'Abruzzo la visita del premier a Campri nell'area del cratere sismico un messaggio di speranza aprire il cantiere proprio qui il sindaco quaresimale un bel segnale per i 600 sfollati del terremoto la soddisfazione di D'Alfonso poi avanti siamo alle pagine di Pescara sempre con il dibattito appunto per la nuova Pescara e Pescara capoluogo anche sospiri e per Pescara capoluogo il capogruppo regionale di Forza Italia rompe il fronte del centrodestra e attacca D'Alfonso conosceva gli effetti della legge sul super comune l'appoggio del leader azzurro alla proposta Cantagallo scatena la rissa nel PD oggi il chiarimento pubblico con rapino e i vertici Alessandrini tenta di spegnere il fuoco guardiamo avanti gli equilibri istituzionali decisi 40 anni fa funzionano sono interdetta dice la Pezzopane dai responsabili di aprire questo fronte la vigilia di delicate elezioni e c'è la risposta del sindaco dell'Aquila Biondi e solo sciacallaggio l'Aquila rinasce per unire il sindaco in trincea dai dem spettacoli indecente una forte area adriatica e utile quanto il rilancio delle aree interne noi torniamo appunto sulle parole pronunciate ieri ai nostri microfoni dall'assessore comunale di Pescara Cuzzi mentre si lavora anche dal punto di vista legislativo alla realizzazione della nuova Pescara nelle ultime ore è tornato d'attualità anche il tema su Pescara capoluogo di regione tra i favorevoli l'assessore comunale e grandi eventi Giacomo Cuzzi ma premesso che io sono favorevole affinché la politica si interroghi per la costruzione di un grande territorio urbano di questa area metropolitana che sia corrispondente alle esigenze di crescita futura della nostra città e della città metropolitana credo che le tempistiche proposte dalla legge regionale siano troppo stringenti rispetto all'importanza della progettualità che non può essere un esperimento ma deve essere di fatto una fusione che produrrà futuro per il nostro territorio dopodiché io non sono nemico di questo progetto anzi credo che sia una grande opportunità ma che va ampliato penso ad esempio ai comuni di Francavilla di San Giovanni Tatino che sono in quest'area continua metropolitana e credo che bisogna arrivare a 250.000 abitanti affinché si possano cogliere reali e vere opportunità questa cosa non piacerà sicuramente all'Aquila agli Aquilani a quello che è oggi il capologo di regione ma io sono un amico dell'Aquila e degli Aquilani senza nulla togliere a loro è la spinta necessaria che la politica deve continuare a imprimere per ricostruire territorio e bellezza di quelle importanti città però credo che qui stiamo discutendo di un'altra cosa cioè una grande area metropolitana sulla costa che credo meriti il capoluogo di regione non è una provocazione ma credo che possa essere il primo riconoscimento e poi penso che bisogna ampliare questa progettualità restiamo sempre a Pescara attenti alle truffe e andate in pace domenica nella chiesa di Rancitelli la lezione degli agenti della mobile dopo l'ondata di episodi registrata nel quartiere in iniziativa di Don Max il prete di frontiera la parrocchia deve fornire anche questi servizi nel berino persino le suore poi ancora falso amico del figlio falsi ispettori IMPS falso medico i trucchi più in voga l'esperimento sarà ripetuto in altre zone poi anche in questo caso si torna a parlare di allerta meteo in questo articolo allerta meteo nei comuni oggi scuole chiuse in tutta l'area pescaresi aperti COC niente auto sulle strade golenali noi a tal proposito vi diamo anche qualche aggiornamento sul fronte del maltempo in particolare per quanto riguarda il comune di Pescara scuole chiuse praticamente il COC il centro operativo comunale ha lavorato tutta la notte per affrontare l'allerta che si è rivelata importante per via della pioggia caduta nella notte la situazione del fiume Pescara al momento è tranquilla è rientrato negli argini da cui era uscito ma senza causare particolari problemi si registrano danni a qualche barca la situazione delle strade si circola in tutta la zona nord del fiume su via Umbria si lavora per regolarizzare il transito a sud del fiume problemi per via Falcone Borsellino via Spaventa e via Celommi su queste ci sono imprese che lavorano con i draw si sta risolvendo la circolazione su via Marconi via Pepe via Musone a San Donato invece è chiusa Fosso Vallelunga sotto il livello di guardia ma titolo precauzionale per la mole di precipitazioni avuta nella notte è stato messo a disposizione il palazzetto dello sport e il servizio di tua per condurvi famiglie e residenti intorno al canale nel caso dovesse riprendere a piovere e la situazione dovesse cambiare poi per quanto riguarda il comune di Francavilla al mare l'aggiornamento di poco fa sono chiusi i sottopassi di piazza Sant'Alfonso via Pola via dei Marrucini via Marino riaperto via Perlasca buona la viabilità e la campanella suonerà alla solita ora continuiamo a monitorare la situazione raccomandiamo dicono dal comune di Francavilla sempre massima prudenza dunque scuole regolarmente aperte lezioni che si tengono quest'oggi a Francavilla al mare proseguiamo con il messaggero siamo sempre a Pescara in arrivo i 18 milioni per le periferie l'assessore Cuzzi a metà dicembre la firma della convenzione i progetti entro i successivi 60 giorni i fondi erogati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri destinati a interventi di riqualificazione in tutti i quartieri e poi ancora a Tremonti e Piano d'Orta da rimuovere tutti i rifiuti ecco le carte della dirigente del Ministero dell'Ambiente se ne riparla per la fine del mese siamo alle pagine dell'Aquila lo splendore di Colle Maggio ora valorizzare il suo tesoro le immagini all'interno della Basilica scaldano i cuori accendono l'entusiasmo è scattato il conto alla rovescia per capire quando l'edificio di culto potrà riaprire il professore Redi lancia un appello aprire al pubblico le chiese preesistenti e l'insediamento dei monaci nei sotterranei trovato materiale inutilizzato che andrà rimosso e poi ancora al Gran Sasso Science Institute nasce un campus da premio Nobel presentato il nuovo rettorato nel restaurato edificio Ex-Gil Rubbia e Beris a Braccetto è una giornata memorabile due sottosegretari all'inaugurazione dell'anno accademico la De Micheli la città si è rialzata il governo sarà presente parla il rettore Coccia apriamo una porta al mondo boom di domande di iscrizione De Filippo momento eccezionale per la città avanti siamo in Marsica sediarono i kosovari al bar alla sbarra in sette finiscono a giudizio per il caso di guerrilla urbana accaduto in piazza Celano dopo il pestaggio di un ragazzo alcuni cercarono di forzare il cordone dei militari nel tentativo di aprirsi un varco per entrare nel locale pubblico con la forza proprio ieri il blitz dei carabinieri per l'ordine pubblico 150 i controllati pagina di Chieti la droga arrivava da Roma con contatti su Whatsapp e Facebook ecco le carte sul giro di spaccio in città scoperto la fiamme gialla e polizia il jeep gli indagati hanno un indole delinquenziale occorre il carcere gli investigatori hanno intercettato messaggi e chiamate linguaggio criptico e intestazioni fittizie di utenze e poi di spalla io sono un pittore oggi l'opera su fiducia all'ateneo presentazione del volume dedicato all'artista scomparso avanti ancora e siamo appunto nel chietino schianto sulla trignina due morti distrutta una famiglia di vasto le vittime sono Elio Ciroli conosciuto autista di busse e la moglie Mariangela Di Renzo feriti i figli uno guidava la loro Fiat appunto ha sbandato per la forte pioggia ed è finita sotto un tir sulla stessa corsia avanti ancora siamo alle pagine di Teramo l'osservatorio sull'acqua pronte nuove iniziative oggi perdono dopo la manifestazione di sabato scorso l'associazione parteciperà al tavolo nazionale l'annuncio si discuterà della messa in sicurezza dell'acquifero del massiccio il portavoce Massimo Fraticelli dice è stata una bella pacifica e colorata iniziativa di democrazia e partecipazione si deve agire sul materiale pericoloso immagazzinato e utilizzato sotto il Gran Sasso e poi di spalla ricorsi al Masterplan nel Mirino la Fortezza gli architetti si rivolgono al Tar intanto ieri primo incontro istituzionale con il sindaco in basso allarme maltempo in città Brucchi chiude le scuole e sulla costa Giulianova il DNA è renata e il figlio resta in silenzio i test confermano che il corpo trovato in una scarpata è quello della pittrice scomparsa lo scorso 9 ottobre Simone Santoleri si è avvalso della facoltà di non rispondere i carabinieri del RIS si ispezioneranno anche la casa dell'artista andiamo ora a sfogliare le pagine della città il quotidiano della provincia di Teramo anche in questo caso chiaramente grande spazio sulla conferma appunto che il corpo che è stato ritrovato nella scarpata è quello di Renata Rapposelli ecco qui lo titola ovviamente anche la città i resti sono di Renata Rapposelli ieri il figlio è stato interrogato dal PM ma ha fatto scena muta le analisi la ciocca ritrovata nei pressi del corpo è stata comparata con i capelli dei figli oggi l'autopsia domani il RIS a casa della donna e poi parla l'avvocato del figlio Simone è provato dalla morte della madre per aver rischiato di perdere il padre e preoccupato per l'inchiesta a suo carico avanti ancora ecco le pagine della visita del premier a Campli salviamo il passato investendo sul futuro il presidente del consiglio Gentiloni inaugura il cantiere della fibra ottica ultraveloce nel cratere sismico il progetto 60 km di fibra ottica per collegare 3600 utenze tra famiglie e imprese del territorio un investimento in uno dei comuni simbolo del cratere sismico del centro Italia avanti ancora siamo alla politica il PD non si fa dettare l'agenda da gatti il commissario cittadino Sandro Mariani lavora alla sfiducia nel caso futuro in può anche accodarsi e poi ancora forti tensioni a Palazzo sull'epilogo di Brucchi la giornata si consuma tra un consiglio comunale da convocare poi saltato e un bilancio approvato e poi revocato d'ora alcuni dei passaggi delle ultime ore su questa crisi in comune il presidente del consiglio convoca i capigruppo per fissare la data dell'assise decisiva per il sindaco la giunta revoca il bilancio approvato per riaprire alle modifiche e alla possibilità di eventuali accordi il presidente del consiglio revoca la convocazione dei capigruppo niente più consiglio in vista e poi ancora restano in coma ma sono fuori pericolo di vita sarà operata nelle prossime ore la tredicenne studentessa del coreutico investita assieme alla madre scuole disagi contenuti nonostante il maltempo entro Natale dal governo potrebbe arrivare la soluzione al caso dei minori non accompagnati all'uscita e poi ancora acqua sicura un successo da capitalizzare le associazioni fissano 5 obiettivi di breve periodo dopo la grande manifestazione di sabato e su questo vediamo il servizio del TG6 costituire un tavolo tecnico sulla sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso aperto alle associazioni che compongono l'osservatorio indipendente sull'acqua e cioè WWF Legambiente Mountain Wilderness Arci Pronatura Cittadinanza Attiva Guardie Ambientali d'Italia FIAB CAI Italia Nostra e FAI e alla richiesta diretta alla regione che arriva dopo la manifestazione di sabato scorso a Teramo che ha visto la partecipazione di circa 3.000 persone per l'acqua trasparente le associazioni ambientaliste dicono di essere riconosciute dalla legge come portatrici di interessi collettivi e diffusi garantiti dalla Costituzione sul tema della partecipazione sottolineano ancora gli ambientalisti c'è un primo importante risultato l'osservatorio è stato contattato dal segretario generale dell'autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale Erasmo D'Angelis che ha sottolineato come sia fondamentale il coinvolgimento delle associazioni della società civile nel tavolo nazionale nato per discutere della messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso tra le altre richieste c'è la valutazione di incidenza ambientale dell'esperimento SOX da condurre all'interno dei laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso l'osservatorio ha poi valutato positivamente l'impegno dei sindaci affermato nell'assemblea dell'8 novembre ribadito dal presidente della provincia di Teramo al termine del corteo dell'11 novembre di essere pronti a impugnare gli atti autorizzativi dell'esperimento SOX le associazioni ambientaliste hanno affermato la necessità di mettere in campo una vera e propria strategia legale su tutti gli aspetti legati alle interferenze fra l'acquifero e l'autostrada e i laboratori del Gran Sasso affinché si possa garantire la salute degli oltre 700.000 abruzzesi che ogni giorno bevono l'acqua che arriva dalle pendici del Gran Sasso l'osservatorio indipendente dell'acqua chiede anche l'impegno delle forze politiche ha invitato infatti i parlamentari abruzzesi a farsi promotori di un'azione decisa sui vari ministeri competenti affinché si possano accelerare sia il processo per l'individuazione della soluzione definitiva al problema dell'interferenza che l'adozione di misure immediate per l'azzeramento del rischio incidenti infine l'osservatorio sollecita il coinvolgimento delle commissioni ambiente di Camera e Senato e ha annunciato che nei prossimi giorni scriverà ai presidenti dei due organismi per approfondire la problematica dell'acquifero del Gran Sasso anche attraverso apposite audizioni sempre sulla città ad altri l'assenza di un delfino spacca il centro-destra il sindaco Stolfi non ha ancora indicato un successore tre papabili in Lizza nella guerra fredda nodo regionale il sindaco non ha ancora sciolto la riserva perché è preoccupato di dividere i sostenitori in vista della sua corsa alle regionali siamo a Roseto Ciancaione piano parcheggi scriteriato la capogruppo di articolo 1 punge Tacchetti grave orientare le scelte sulle remuneratività degli stalli e poi ancora sanità integrativa a domicilio con Radio Sanit la struttura ha stretto un patto con Rotas per colmare le carenze del servizio sanitario rivolto a privati e piccole e medie imprese telemedicina fiore all'occhiello del progetto Radio Sanit sarà l'apertura dei servizi di assistenza sanitaria a distanza e qui l'imprenditore di Radio Sanit Luca Verdecchia andiamo ora alla pagina dello sport della città ecco qui Teramo l'attacco segna quanto il solo Gomez la punta del Renate sette volte a segno tutto il reparto avanzato bianco-rosso ha realizzato le stesse marcature diavolo a più 4 sulla zona rossa è successo del Sant'Arcangelo contro il Vicenza complica le cose in casa bianco-rossa la squadra di Asta adesso è solamente 4 punti sopra il penultimo posto in classifica un piccolo excursus sulle prime pagine delle testate sportive prima di dare uno sguardo anche allo sport di centro e messaggero qui siamo sulla gazzetta dello sport che ieri titolava fine proprio è stata la prima pagina per sintetizzare l'esclusione dell'Italia dal mondiale ed ora inizio titola così la gazzetta dello sport manifesto gazzetta ecco 10 idee per rialzarsi nazionale Ancelotti tentato ma chiede il rinnovamento Malagossi Lura Tavecchio che prova a resistere ecco qui a tutta pagina inizio con Carlo Ancelotti che insomma sta valutando l'ipotesi di diventare CT staremo a vedere invece è diversa la prima pagina del Corriere dello sport te ne vai o no con una foto in primo piano del presidente federale Tavecchio dopo il disastro azzurro lo sport italiano si mobilita Lotti il calcio va rifondato Malagò io mi sarei dimesso De Laurentiis via tutti Tavecchio tenta di resistere gioca la carta Ancelotti e poi tutto sport e non se ne vanno perché al momento non sono arrivate le divisioni del CT 21 non ci sono neanche quelle del presidente federale Tavecchio e dunque tutto sport titola e non se ne vanno dopo il disastro dell'altra sera ora andiamo a vedere le pagine dello sport intanto del messaggero che parlando di Pescara titola Pescara devi dare di più le parole sono quelle del centrocampista Andrea Palazzi che aggiunge ci stiamo impegnando ma per ora non basta gioco o non gioco con la Povercelli bisogna vincere oggi facciamo fatica a seguire Zeman ma ci riusciremo abbiamo un organico molto forte che vale almeno i playoff allora ascoltiamo proprio le parole di Andrea Palazzi il gioco c'è stato in alcuni momenti a volte abbiamo fatto fatica a trovare le giocate a esprimere il nostro gioco stiamo facendo un po' fatica nei 90 minuti a Bari abbiamo fatto 45 minuti secondo me molto bene secondo tempo ci siamo abbassati troppo abbiamo un po' sofferto i loro singoli e adesso dobbiamo ripartire dall'impegno che stiamo mettendo che sicuramente stiamo andando tutti il 100% probabilmente non basta bisogna dare ancora di più bisogna dare il 110% per tornare alla vittoria che adesso è la cosa più importante sicuramente nonostante il gioco attraverso qualsiasi mezzo dobbiamo tornare a fare i tre punti ma io invece penso di sì penso che i playoff per noi sono abbordabili penso che dobbiamo continuare così perché abbiamo una rosa con giocatori molto forti che hanno giocato in Serie A che hanno fatto bene in questi anni hanno fatto una promozione quindi dobbiamo continuare in questa maniera sicuramente mettendoci di più perché a quanto pare non basta adesso non è abbastanza ma sono sicuro che i risultati verranno ne siamo sicuri tutti abbiamo un allenatore che ha la sua storia ha la sua identità noi dobbiamo solo seguirlo e i risultati arriveranno Sì sì infatti è un vantaggio per noi perché sono comunque oltre ai giocatori fortissimi che conosciamo tutti sono comunque due presenze importanti nello spogliatoio comunque andare a giocare fuori casa all'Adriati che per la Provercelli non è facile avendo comunque qui due giocatori in campo ti possono dare una mano sicuramente anche a livello psicologico sono due essenze importanti dobbiamo sfruttare queste loro squalifiche comunque la Provercelli è una squadra ostica che ha una fase difensiva importante la cura molto bene sa ripartire sa giocare è una squadra bella come si può dire ignorante che fuori casa sta facendo molti punti quest'anno io conosco bene loro basano il loro calcio sulla fase difensiva sulla loro salvezza su questo quindi dobbiamo essere bravi ad avere pazienza e cercare spazi per fare gol E sempre sul messaggero stavolta sotto esame c'è anche il tecnico Zeman chiaramente poi per il basket in basso Carlino Roseto voglio essere il tuo leader il nuovo acquisto sbarca oggi a Roma il campionato è ancora lungo daremo tutto per la salvezza e poi ancora per la serie C Teramo si riapre la lotta in coda alla classifica per la serie D corsa contro il Tempo per salvare l'Aquila presto nuovi incontri la squadra aspetta ancora gli stipendi per il calcio a 5 oggi l'acqua e sapone contro il Castelfidardo debutto in trasferta della nuova coppa di divisione nei razzori favoriti dal pronostico contro una rivale di B il tecnico Ricci non rischia Jonas Bertoni Lima e Osvaldo ci saranno invece Casassa e Rocia invece sul fronte Pescara con Patriarca iniziata la risalita del Pescara lasciamo il messaggero andiamo sul centro proprio in chiusura per vedere questa ampia intervista al portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo che dice vorrei restare qui a vita il 27enne genovese nel 2015 ho pianto dopo i playoff di Bologna un periodo negativo ma ci rialzeremo spoglietoio diviso falsità e poi il portiere giura amore al club ho capito di avere un legame speciale con questi colori quando abbiamo perso la finale per la Serie A e poi altri passaggi dell'intervista molto ampi il metodo Zeman il bohimo premia chi merita non parla con i giocatori dalla mattina alla sera come invece fanno altri che predicano bene e razzolano male poi l'idolo in ginocchio mi sono sempre ispirato a Buffon vederlo in lacrime dopo la gara con la Svezia mi ha reso triste non meritava una delusione così grande questi sono appunto alcuni dei passaggi salienti della sua lunga intervista concessa al centro siamo in chiusura di questa edizione di mattino 6 che tornerà domani alle ore 8 vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 delle 14 delle 19 delle 23 io ringrazio in regia Silvia Gentile e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata con il TG6 Grazie a tutti.